Buongiorno a tutti, oggi 21 marzo 2014 e benvenuti a questa nuova puntata di Portafogli ETF di Riccardo Zarfati. Diciamo innanzitutto in generale che l'altro ieri c'è stato un po' di nervosismo in borsa dopo l'annuncio della Yellen che sostanzialmente ha confermato una ulteriore riduzione del quantitative easing e ha poi fatto balenare l'idea che un eventuale aumento del tasso interesse potrebbe arrivare quanto prima, c'era stata una chiusura delle borse americane in negativo ma poi ieri in giornata i mercati hanno prontamente reagito, con chiusure decisamente positive sia per gli indici americani sia in particolare per il nostro indice che è andato poi a chiudere sopra i 21.000, di fatto ripristinando per il momento la tendenza rialzista di breve. Da segnalare poi anche che alcuni emergenti hanno confermato i segnali di rimbalzo che abbiamo cominciato a seguire, per cui vediamo ieri come hanno chiuso con le candele Aikinashi i nostri ETF, lascio prima di cominciare con i grafici le due solite tabelle introduttive che chi non ha seguito le precedenti puntate può guardare e eventualmente contattarmi per ulteriori approfondimenti, i ticker principali che possono essere seguiti, gli ETF che possono essere utilizzati in long e in short per seguire questa operatività, nonché una breve spiegazione della differenza che esiste tra le candele Aikinashi e le candele giapponesi che più frequentemente siamo abituati a vedere nei grafici. Bene, detto questo passerei alle analisi iniziando con il Sudafrica, in questo momento il Sudafrica ovviamente non è shortabile, è un ETF, qua stiamo vedendo la versione long, non siamo attivi, c'era stato uno stop all'operatività rialzista, per il momento rimaniamo in osservazione, vedete candele di stabilizzazione per il momento senza alcun segnale. Siamo short invece sull'SP500 tramite l'ETF SPX, in questo momento vedete siamo praticamente un po' in perdita, in leggera perdita, perché siamo entrati più o meno a 13,70, oggi è chiuso a 13,72, 73, però in questo momento non c'è a mio avviso un ripristino deciso del trend rialzista, vedete la candela comunque presenta ancora delle code, per cui il mio suggerimento è di continuare con questa operatività short per il momento, eventualmente da chiudere domani a fronte di una eventuale nuova candela verde. Per cui manteniamo l'operatività al ribasso sullo standard del PUR e vediamo che cosa è successo agli altri mercati. Sulla Russia avevamo dato un segnale di entrata sull'ETF che ha come ticker RUS, per il momento c'è di fatto una nuova candela verde, l'indice sta stabilizzando sotto i nuovi recenti massimi di periodo, per cui attendiamo e manteniamo aperta la nostra posizione. ETF LAFRI che copre le principali borze del continente africano, quindi un ETF un po' particolare, ma che vale la pena comunque seguire perché è in un'ottica di portafoglio, anche quello sicuramente un continente che può dare interessanti sviluppi. Per il momento siamo fuori, dopo questo break rialzista, vedete che gli indici e i prezzi si stanno stabilizzando, probabilmente troveremo nuovi segnali da queste parti in area 7,80 o vicino ai recenti massimi in area 8,20, per cui attendiamo nuovi segnali. Siamo fuori anche dall'India, vedete non c'è per il momento un effetto di ripristino chiaro della tendenza rialzista, una candela ulteriore con delle code che non ci dà per il momento un'indicazione di entrata. Il nostro indice, siamo al rialzo dall'altro ieri, ha fatto un'altra candela verde per cui chiaramente manteniamo il nostro long. Di nuovo si è riportato come detto su quota 21, vediamo dove eventualmente potrà arrivare. La Cina sta cercando di difendere i recenti minimi di area 87,60, l'ETF che ha come ticker appunto Cina, per il momento ulteriore candela rossa per cui rimaniamo su questo ETF decisamente in osservazione. Eravamo entrati invece sull'ETF Brasile con la candela dell'altro giorno, adesso attendiamo che si materializzi quella nuova. Vediamo un po' se ha bisogno di un piccolo aiuto. eccola qua, perfetto. Scusate per il ritardo della candela ma poi alla fine è arrivata. Vedete il segnale buy che abbiamo preso l'altro ieri, anche ieri c'è stata una candela verde lunga per cui già c'è un discreto guadagno di breve sull'ETF Brasile e ovviamente manteniamo la posizione. Sul Nasdaq siamo in attesa, siamo arrivati alle prime resistenze diciamo dinamiche, c'è stata sì una seconda candela verde ma per il momento attenderei prima di rientrare al rialzo ed aspetterei un segnale più chiaro di rottura di questa resistenza. sulla Turchia anche siamo al rialzo, ormai che abbiamo attivo da circa due settimane, codice ITKY anche oggi è stato un buon incremento per cui sicuramente manteniamo il nostro long sull'ETF turco. Il Giappone invece va decisamente in controtendenza, ha fatto una chiusura negativa la borsa giapponese e vedete che l'ETF ha rotto a ribasso questa trendline dinamica che fino a qualche giorno fa stava tenendo i prezzi. Vediamo se magari da queste parti si ripristinerà anche perché i mercati stanno rialzando per cui non è improbabile che possiamo già da domani vedere un qualche segnale verde che ci possa eventualmente permettere di rivalutare la situazione ma per il momento rimaniamo decisamente fuori. Eurostox siamo anche qui in attesa, c'è stata una prima candela verde l'altro ieri senza code e il mio suggerimento era di aspettare, oggi c'è stata un'altra candela di stabilizzazione anche se poi in serata il future ha comunque esteso il rialzo, per il momento anche qui il suggerimento è di rimanere fuori e di aspettare nuovi segnali. Sul DAX siamo al rialzo, c'è stata oggi questa candela effettivamente di difficile interpretazione ma devo dire che questa ha forse più a che fare con aggiustamenti di prezzo dell'ETF in questione. La reazione è stata molto positiva del DAX, soprattutto del future anche in fine serata. Per cui per il momento io manterrei questa posizione al rialzo sull'ETF e XS1 che copre l'indice tedesco del DAX. Ultimo azionario che è il Messico, XMEX è il codice, qui anche siamo entrati long e come vedete c'è stata subito una buona reazione, una buona conferma, una ulteriore candela verde che naturalmente continueremo a seguire. Passiamo all'agricoltura. Anche qui eravamo rientrati, dicevamo nella puntata, nella video analisi di ieri perché c'era il ripristino di una tendenza rialzista e probabilmente questo ETF avrebbe beneficiato in particolare anche del ribasso dell'euro-dollaro, visto che i future sottostanti sono tutti quotati in dollari, per cui effettivamente oggi c'è stata perlomeno una prima conferma, vediamo se domani sarà in grado di proseguire eventualmente in questa seconda gamba rialzista. Sull'oro codice BULL siamo fuori, siamo usciti l'altro ieri e oggi per il momento questa tendenza negativa di breve si sta confermando, quindi anche in questo caso rimaniamo in attesa di eventuali nuovi segnali. Non entriamo short perché comunque la prima gamba rialzista è stata piuttosto importante, per cui non è improbabile che ci sia quantomeno in questa zona un tentativo di ripristino quantomeno verso le resistenze, verso i picchi del periodo, per cui sull'oro rimaniamo in attesa. Dai metalli industriali non c'è nessuna novità, dopo qualche giorno c'è una prima piccola candela verde, ma come ormai sappiamo per la metodologia Aikinashi non è ancora sufficiente per entrare nel trend. Natural gas siamo fuori anche da questo strumento, dopo picchi di volatilità molto elevati nelle precedenti settimane, poi da 3 o 4 settimane si sta stabilizzando con delle variazioni estremamente limitate, per cui nessun nuovo segnale e rimaniamo in osservazione. Per ultimo il petrolio, questo è l'ETF che lo esegua rialzo, naturalmente, ricordo per chi, nel caso uno volesse seguire delle operatività a ribasso, ad esempio sul petrolio, deve andare a vedere la tabella che sta all'inizio della presentazione e selezionare lo strumento a leva 1 o a leva 2 che permetta di andare short sul petrolio. In questo caso lo short a leva 1, se non ricordo male, è il ticker SOIL. Comunque sul petrolio c'è in questo momento una prima candela lunga verde, noi siamo fuori, io suggerirei, visto che siamo su queste prime resistenze, di aspettare un'eventuale conferma, un'eventuale rottura di questa resistenza. Anche per oggi quindi è tutto, come di consueto vi lascio ai miei contatti, ma prima permettetemi solamente due minuti di una piccola autopromozione, sapete che oltre a questa videoanalisi ho un servizio in abbonamento che fornisce segnali operativi sugli ETF, è un servizio molto più strutturato ovviamente di questa videoanalisi che è limitata a pochi strumenti, monitoro circa 120 ETF quotidianamente ed invio segnali basati su analisi settimanali. Qualunque informazione vogliate avere in più potete andare sul sito di Trend Online all'interno dei servizi premium oppure copiare e incollare nel vostro browser questo indirizzo che vi porterà alla pagina in questione. C'è anche la disponibilità di una prova gratuita di due settimane per vedere come funziona il servizio, per cui penso che sia una cosa estremamente interessante, stiamo vedendo che comunque con gli ETF si ha la possibilità di andare a rialzo o ribasso su praticamente tutti gli strumenti e gli asset finanziari disponibili sul mercato, per cui una flessibilità è una capacità di lavorare sui mercati estremamente utile, estremamente positiva. Bene, vi lascio l'ultima chart come di consueto ai miei contatti per qualunque informazione vogliate avere su questa videoanalisi o su questo abbonamento settimanale che è possibile utilizzare in prova. Vi ringrazio di nuovo per l'attenzione e vi auguro una buona giornata. A presto!